e quando dico rock and safe ormai lo sapete dico stefano buonasera ben ritrovato è vero la settimana scorsa siamo visti da lontano ti sei mancato infatti mai più e mai poi mi siete mancati anche voi di verde vestito come la sottoscritta lo possiamo dire l'abbiamo fatto apposta certo ci chiamiamo la mattina per decidere il colore dell'outfit in compagnia di un ospite davvero speciale ce lo presenti e ci fai capire come vi siete conosciuti oggi fuochi di artificio perché sono felicissimo di avere federico sagona quindi un artista nostrano perché toscano come noi e ci siamo conosciuti nell'ambito di rock and safe un anno e più fa ormai ci sa facciamo un'intervista e con federico insomma è scattata subito la scintilla perché è nata subito una bella sintonia siamo rimasti in contatto e poi a inizio di questo anno mi ha annunciato un bellissimo ha dato una premiere in sostanza e quindi ci siamo rincontrati perché ha pubblicato un suo album solista che io ho avuto il privilegio di ascoltarlo prima dell'uscita e me ne sono innamorato e fra l'altro è un album il cui contenuto comunque il fil rouge ha a che fare con rock and safe ma ne parliamo innanzitutto federico quindi benvenuto grazie buonasera ciao a tutti tastierista professionista la tua tastiera oggi non manca che perché nella seconda e terza parte ci saranno due sorprese bellissime so che hai calcato dei palchi davvero importanti ci racconti la tua storia e quello che è stato il tuo percorso professionale ho avuto la fortuna di poter lavorare con artisti importanti come Piero Pelu e poi quando lui è rientrato nel Litfiba con il Litfiba nella reunion del 2010 poi ho lavorato con Noemi e con il grande Gianni Morandi oltre altri artisti però insomma diciamo queste sono le mie mostrine ecco e da poco come diceva Stefano sei uscito con il tuo album da solista io come è nata l'idea come sta andando allora l'idea nasce da lontano i pezzi appunto hanno alcuni hanno una genesi che parte appunto da diversi anni fa altri invece sono stati composti nel periodo del lockdown come hanno fatto in realtà tanti artisti in questo periodo cioè tanti hanno lavorato su progetti personali io appunto venivo da tante collaborazioni dal punto di vista musicale avevo voglia di tirar fuori qualcosa che fosse assolutamente personale completamente mio quindi non filtrato anche attraverso magari varie collaborazioni quindi volevo che fosse proprio un prodotto mio quindi un album con la tastiera con il pianoforte anche se forse nel mercato nel quale stiamo vivendo altri generi musicali vanno di più quindi la domanda è questa è più importante esprimersi o i like i post la fama allora per quanto mi riguarda ho sentito l'esigenza di tirar fuori quello che avevo dentro dal punto di vista musicale è un album solo strumentale solo di pianoforte quindi non ci sono voci non c'è non ci sono batterie basso quello con cui sono abituato a lavorare regolarmente volevo proprio andare un po in controtendenza avevo alcuni pezzi strumentali da anni e diciamo e ho trovato la possibilità di poterci lavorare e di esprimere quello che ci avevo dentro quindi non mi sono assolutamente legato alla possibilità di avere un una diffusione appunto legata ai social per forza o legata ai numeri volevo solo tirare fuori me stesso dal punto di vista è molto importante hai collaborato ecco velocemente anche con simone papi in che modo allora simone ha missato il disco e masterizzato per la parte digitale e simone è stato anche pieno di consigli per quanto riguarda le varie cose sulla registrazione anche sull'interpretazione di alcune cose quindi è stato un consigliere oltre appunto un un amico che mi ha veramente aiutato a tirar fuori anche a livello sonoro quello che ci avevo in testa federico grazie non vedo l'ora di tornare da te per la seconda parte nella quale ci sarà la tua esibizione assolutamente stefano grazie beh io non vedo l'ora anch'io a dopo stefano eccoci qua eccoci qua e quindi parlavamo del dell'album di federico e quando ne abbiamo parlato nell'intervista sul rock and safe ero incuriosito dal titolo dell'album come si chiama ci spiega federico 86400 86400 come lo chiamo io perché sennò mi diventa uno scioglilingua non è un numero verde non è un numero verde da chiamare ma sono i secondi che compongono una giornata è vero perché non ci pensiamo mai a questa cosa si abbiamo scomposto appunto in in secondi la giornata 400 e su questo tempo il tempo mi ha affascinato perché insomma poi magari ne parliamo dopo cosa c'entra il tempo con non tanto la sicurezza ma la qualità della vita mi ha affascinato tantissimo però insomma il titolo poi solo una piccola parte di quello che è un'opera che io mi sono veramente innamorato davvero è bellissima federico adesso ti esibisci ok volentieri con cosa suonerò l'inizio che è proprio il primo brano del disco prego la scena è tua grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti complimenti ti meriti un applauso non sempre mi emoziono ma con te è impossibile davvero bravissimo grazie grazie quindi stiamo parlando dell'importanza del tempo dei secondi 86400 ma quindi quanto è importante questo tempo in un mondo che oggi è frenetico allora secondo me il la possibilità anche che c'è stata data in un periodo così complicato come quello del lockdown di poter riassaporare dei momenti assolutamente nostri non andava sprecata è per questo che mi sono concentrato appunto sul valore del tempo nel disco i pezzi hanno seguito i pezzi hanno seguito poi questo filone in maniera abbastanza naturale credo che il tempo sia fondamentale credo che il tempo sia fondamentale per come lo impieghiamo e per quello che possiamo fare per migliorarci per poter star bene e far star bene anche gli altri potendo riaprirsi di nuovo insomma alle persone alla collettività diciamo visto che ancora un pochino ci è diciamo parzialmente negata quindi speriamo che col tempo appunto riusciamo a tornare alla socialità che abbiamo regolarmente c'è anche un po' di rock e lo è beh di sicuro a parte insomma i suoi trascorsi e insomma comunque continua ma la scelta di rallentare il tempo oggi è una scelta rock perché viviamo in un mondo davvero che a volte la frenesia ci fa sfuggire di mano quelle che poi sono i bei sapori i bei colori della vita stessa e quindi magari ci troviamo in situazioni belle ma non abbiamo non ci diamo quel tempo per assaporarle e questo diventa un grosso problema è di attualità quello che è successo a Bruce Willis questa settimana danno cerebrale dell'afasia è una cosa bruttissima cioè si perde si perde la capacità del linguaggio su Bruce Willis agito madre natura dobbiamo essere consapevoli che si può essere vittime di afasia anche per colpa dell'ictus e l'ictus ce lo possiamo anche creare quando viviamo a ritmi di vita forse nati e quindi dobbiamo riuscire a dare un freno a tutto quanto magari ascoltandosi l'album di Federico se sono tutte belle così io lo devo assolutamente ascoltare tutto assolutamente Federico dopo ci sarà un'altra esibizione non vediamo l'ora grazie Stefano Stefano Federico riaccoci qua eccoci qua parlavamo dell'album di Federico 86.400 secondi di una giornata che a volte ci scorrono via fra le mani e non ce ne accorgiamo nemmeno credo che sia veramente terapeutico impegnarsi ogni tanto a prendere del tempo per noi magari visto che in compagnia delle carpe coi davanti a un laghetto ascoltando l'album di quindi le canzoni ti è messa insomma realizzate da Federico e beh molto bucolica mi piace questa questa idea e io credo che appunto l'ascolto della musica oggi siamo abituati ci mettiamo le cuffie e mentre ascoltiamo la musica facciamo qualche cosa no qualche cos'altro in realtà è terapeutico i vari brani di Federico veramente creano delle suggestioni atmosfere che non ve le posso raccontare se non invitandovi ad ascoltarle e veramente quando prendi quanto dura l'album in un po' meno 32 minuti quindi alla fine non è nemmeno tanto prendersi 32 minuti mi spiego per arrivare qua al lavoro mi sarebbe perfetto perfetto è l'occasione proprio mettersi sul divano e ascoltare fra l'altro queste bellissime musiche che ci riconducono ci portano in viaggi lontani con la mente è veramente terapeutico anzi se abbiamo fatto una lunga giornata di lavoro anche parecchio stressante beh di sicuro questo è un regalo che ci possiamo fare a fine giornata e grazie a Federico abbiamo questa possibilità senza perdere altro tempo adesso c'è la seconda esibizione come si chiama? Battiti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due dischi nuovi al Renni Club il 7 di maggio appunto in via Baracca a Firenze. Quindi vi aspetto, insomma spero di vedervi lì. E poi l'album dove possiamo ascoltare tutti i tuoi pezzi. Come si chiamano gli altri? Pensi a dei titoli davvero belli. L'inizio, Battiti. Ritorni, il tempo ritrovato. Ritorni mi è piaciuta tantissimo, l'ho ascoltata nel pre-puntata. Complimenti. Grazie mille, grazie mille. È il tempo ritrovato. Aeroporti e pianoforti un po' particolare come immagine. Mi immaginavo appunto una persona che la mattina era in corsa per preparare la valigia e poi alla fine parte. Si sente proprio la partenza finale dell'ultimo brano del disco. E poi altri. Sono nove brani che compongono questo mio disco. Ecco, ecco. Complimenti. Beh, quando l'ho sentito ho detto Federico appena suonerai dal vivo io voglio venirti a vedere, però non immaginavo di essere accanto a lui. Quindi è stato veramente emozionante e di sicuro io sarò presente al Renni per viverci questo viaggio insieme. Quindi vi aspettiamo. Stai già pensando magari a quelli che sono i progetti futuri? Sto già organizzando un po' di serate, quindi quello è già un progetto importante per me e già comunque iniziando a scrivere anche dei nuovi brani per un prossimo album. Ora, intanto cercherò comunque di diffondere questo e di farlo sentire il più possibile e poi continuerò a scrivere perché è una cosa che mi fa stare bene. Quanto impieghi per realizzare un brano? Dipende. Dipende, veramente. Minimo e massimo. Il primo brano che vi ho suonato ha 15 anni, quindi ci ho messo diverso tempo. L'ho scritto 15 anni fa la prima parte. L'inizio. Sì, l'inizio. Infatti si chiama così perché è stata proprio la scintilla che ha acceso un po' questo fuoco. Mentre alcuni brani come Battiti, che avete sentito, è stato un brano che ho scritto in pochi giorni. Avevo questo spunto musicale. Eri ispirato. Un po' più rock. Sì, e quindi ho deciso di seguire questo filone. Mi sentivo ispirato appunto. Poi te parli anche dell'importanza del tempo, quindi non è semplice stare dietro a tutto, al dover scrivere e poi la vita è composta anche dalla famiglia, dal lavoro. È un bel connubio. Certo, ci vuole molto equilibrio, ci vuole anche una bella agenda per riuscire a segnarsi tutto e riuscire a portare a termine poi tutti i progetti che uno ha. Però insomma, si fa. E poi l'importante è viverli al massimo questi secondi. 8-6-4-0-0. Grazie per essere stato con noi, Federico. Grazie, è stato un piacere. Beh, contenta? Contentissima? Beh, non lo sapevo, non avevo dubbi, sono contentissima anch'io. Come la musica racconta la vita e che ci fa porre anche, non solo dilettarci, ma insomma far riflettere sulle cose belle che vale la pena di vivere. Di vivere. Quindi grazie ancora Federico e niente, insomma. E grazie Stefano. Sono emozionato, sono emozionato perché la sua musica mi piace davvero tanto. Ci piace, parliamo al plurale. Grazie Stefano, appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana. Non vediamo l'ora. Grazie mille. Ciao.